Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo scopate cosa rappresenta per lei non so non so non so perché non voglio giudicarlo come uomo politico non so niente sono ritornato a volergli bene come una volta come persona il suo marito c'era un'altra cosa volevamo molto bene Galeazzo ma non era questa specie di padre te erano per me insomma devo dire che Galeazzo certo mi asfoltava più di mio marito civile il mio padre e oggi come lo giudichi giudico un ottimo uomo politico che aveva soltanto alcune pecche diciamo così ridicole era un po snob mi piacevano le belle donne mi piacevano i palazzi mi piaceva la vita comoda eccetera era pigro probabilmente pigro tanto è vero che andò in avviazione soltanto per questo fatto perché quando io sono seduto su apparecchio vabbè al massimo mi buttano giù ma non devo fare nessuna fatica nessuna cosa insomma poi ritorno c'è un bel bagno che mi aspetta e tutto va benissimo insomma al manacco di bellezza 8 aprile leonardo piccinini piero maranghi siamo partiti da una testimonianza raccolta dal grandissimo nicola caracciolo dove ascoltiamo dalla viva voce di edda ciano mussolini il racconto di un dramma pazzesco eroina tragica suo malgrado del novecento una donna che è passata dall'essere la più grande del ventennio una delle più importanti del ventennio fascista a costretta a scappare in un carro col fieno ecco quindi e parliamo della primogenita adorata di benito mussolini non da sua madre rachele che tra l'altro si prenderà una bella fetta di vendetta nei confronti di questa figlia ribelle perché sappiamo che sarà decisivo il suo intervento per la fucilazione del marito galeazzo ciano senti lei aveva un carattere ribelle era un maschiaccio giocava pallone meglio del padre tra i due c'era un rapporto simbiotico di grandissimo amore incondizionato e questo rende ancora più tragico poi l'epilogo certo mussolini si compiaceva dell'irruenza della vehemenza di questa ragazza mentre appunto non erano buoni i rapporti con donna rachele donna rachele capisci lei era nata che ricordiamo ha goduto fino alla morte della pensione di reversibilità per dire che cos'è anche cos'è estate che cos'è anche è stato tutto veramente lei era nata il primo settembre sotto il segno della vergine del 1910 a forlì e a roma si spegne nel 1995 quindi l'anno prossimo sarà il trentennale l'otto di aprile ecco per dirvi di come i tempi cambiano era la prima dei cinque figli di rachele guidi e benito mussolini e viene registrata l'anagrafe come figlia di madre ignota perché perché i genitori non sono sposati quindi insomma diciamo che abbiamo fatto dei passi in avanti nei diritti civili lei vive la povertà della famiglia fino alla alla fine della prima guerra mondiale e poi sappiamo che a 16 anni salva un'amica una compagna che sta negando ed è il primo tassello del mito di donna coraggiosa spericolata libera che sarebbe servito poi alla narrazione del regime nel ventennio per creare una sorta di alter ego femminile a quello assoluto del duce certo quando si trasferisce con la famiglia a milano prima frequenta il parini poi il padre la iscriva all'esclusivo regio istituto femminile della santissima annunziata a firenze lei però che è un po ribelle come abbiamo visto un po tanto infastidita dall'ambiente se ne va dopo un anno non si diplomerà mai il padre ne controlla ogni mossa sappiamo che in carica il segretario alessandro chiavolini di leggerle la corrispondenza ebbene non c'erano eccezioni non c'erano eccezioni lui mette il naso nelle sue amicizie nelle sue relazioni e le proibisce di frequentare quelli che a lui non era il duce era il duce e poi si va a roma villa torlogna 1929 lì c'è il viaggio viaggio di educazione col senatore Ettore Conti e con sua moglie Giannina Casati perché Mussolini chiede a Conti di educare la figlia di provare a provare come dire a farle tenere almeno la forchetta il coltello e c'è questo lungo viaggio che devo dire porta a un esito positivo lei lo racconterà perché al ritorno c'è pronto il marito ambiziosissimo ambiziosissimo dalla quantità di 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 gelatina che metteva nei capelli galeazzo ciano galeazzo ciano è la fangatè del fascismo perché è il figlio di costanzo ciano uno dei fascisti della prima ora però è prefascista perché era stato dannunziano dannunziano è l'eroe di buccari la famosa galattina di pollo il ganascia detto ganascia perché la perché c'aveva la mascella e poi perché rubava gli appetiti erano molteplici va bene ministro delle comunicazioni e il loro fidanzamento è fulmineo si sposano si sposano nell'aprile del 1930 a villa torlonia e c'è un grande seguito mediatico diventano immediatamente la coppia del regime lui poi ha una quantità di amanti e lei pure tra cui anche nomi illustri e quindi diciamo sono il perno intorno a cui ruota tutto l'ambiente sociale mondano frivolo del fascismo appetiti inclusi appunto edda mussolini scrisse il messaggero nella raccolta intimità delle due famiglie con la semplicità e la sobrietà quasi schive che formano come una propizia atmosfera intorno alla confidente giovinezza e al luminoso amore saranno benedette le nozze di galeazzo ciano con edda mussolini la vita si svolge secondo i suoi miracolosi disegni feconda e patriarcale nella casa del duce dopo la luna di miele a capri si parte per shanghai perché lui lì è console generale si tre anni lo stile di vita si conte ciano perché racconto di cortellazzo capisci conte ciano stile di vita molto libero lussuoso poker alcol avventure amorose e trova anche il tempo per aprire la casa a invitati molto importanti e in qualche modo si fa che interprete di favorire le relazioni diplomatiche e commerciali tra l'italia e la cina diventa famosa diventa la prima signora della città è anche l'unica moglie di un diplomatico che non lascia shanghai durante la guerra cino giapponese certo hanno tre figli fabrizio raimonda e marzio e dopo il rientro a roma lei non smette di supportare il marito nell'attività diplomatica più da protagonista appunto perché con il suo carattere non poteva essere altrimenti più da protagonista che da comprimaria e organizza un'intensa vita mondana sono tutti amici sono tutti amici poi ci sono i nazisti tra l'altro lui sappiamo che era un grande frequentatore del famoso salon kitty di berlino il grande casino berlinese quindi insomma diciamo che lui poi era un uomo di grandi relazioni era certamente vicino agli alleati ma coltivava un doppio binario loro erano più vicini al mondo inglese sia loro che grandi diciamo poi c'è però l'avrebbe dimostrato ampiamente sull'onestà della loro vicinanza soprattutto di lui al mondo inglese o della sua narrata come dire ritrosia ad abbracciare i tedeschi ci sono molti dubbi anche perché tutto diciamo si deve ai famosi diari i diari diciano di cui parleremo perché sono fondamentali in uno snodo drammatico della vita però erano diciamo diari molto molto edulcorati esattamente leonardo lei viene proprio inviata a londra nel 1935 per sondare le reazioni degli inglesi all'imminente conquista dell'abissinia dopo la proclamazione dell'impero la nomina del marito a ministro degli esteri ricordiamo che abissinia è un nome che usavano gli italiani perché in realtà si tratta del corno d'africa quindi eritrea somalia etiopia sappiamo come sarebbe andata a finire già che la lega delle nazioni vuole regalarci le sanzioni e poi viene mandata in germania dove viene ricevuta con molta confidenza da hitler che ancora nella fase di innamoramento per il padre certo lei è favorevole alla guerra ma non all'intervento in spagna accusa il marito di germanofobia ciano è filo francese appunto ma diciamo che un po tutto l'ambiente chic guardava verso la francia e verso l'inghilterra perché si parlava francese ancora no le famiglie parlavano regolarmente francese le famiglie nobili quindi il mondo germanico era ancora visto con sospetto anche perché non dimentichiamoci che tra il 18 e il 38 passano appena vent'anni quindi c'erano ancora i combattenti della prima guerra mondiale i reduci tutti avevano combattuto c'erano quelli che le avevano prese da rommel c'erano cerchi aveva perso il marito i genitori c'erano i mutilati quindi insomma la gel mondo austro tedesco era visto ancora con sospetto la vita incredibile di questa donna continua lei nel 38 viene assunta nella segreteria del padre del duce con l'incarico di occuparsi di beneficenza e dispone in questo caso di ingenti risorse diventando parte integrante della macchina della propaganda del padre e a un certo punto curzio malaparte la definisce l'unica vera rivale di mussolini e predice il giorno in cui tra padre e figlia sarebbe scorso del sangue una sorta di indovino incarichi pubblici eppure la sua vita è una vita inquieta e irrequietta è una vita disordinata d'altra parte non c'era poi niente da fare di importante diciamo la verità non tramare le aree di movimento erano vastissime quindi si perdono molti soldi al gioco si balla faceva tardi si beve anche il suo abbigliamento destava scandalo perché c'erano sempre questi abiti molto scollati non c'erano le maniche nell'estate del 34 pensate galeazzo c'è un episodio la schiaffeggia per aver indossato uno dei primi costumi a due pezzi vedi che bell'ambientino però e alla libertà di movimento e di relazioni associa la parte eroica indomabile diventa crocerossina e rischia la vita nel 41 perché nel porto di valone in albania rimane in acqua per ore dopo il siluramento di una nave ospedale poi verrà impegnata in russia in sicilia ci saranno delle sue così querelle con maria josè di savoia che era la presidentessa della croce rossa e che lei considerava troppo pacifista e troppo critica verso il fascismo maria josè è un personaggio molto interessante molto interessante e poi edda si prende il lusso di litigare diciamo litigare di criticare anche hitler perché ci sono i lavoratori che vengono mandati in germania tant'è che il padre la deve mettere a tacere ma cosa dici edda non possiamo mica prendercela con adolfo ho qui i diari scritti da mio marito il tuo ex genero e voglio leggertene qualche ricco prima di farli avere a cercilo a badoglio al new york times ascolta mussolini si scaglia contro il natale e si sorprende che i tedeschi non abbiano ancora abolito questa festa che dopo tutto ricorda solo la natività di un ebreo egli ha proibito ai giornali di commemorare il natale ti piace essere descritto così senza l'abituale maschera di difensore della cristianità aspetta senti questo mussolini ha detto che c'è un solo generale che gli piace quello che una volta in albania disse ai suoi soldati so che siete degli ottimi padri di famiglia e questo va benissimo a casa vostra ma non qui qui voi non sarete mai abbastanza assassini ladri e stupratori che te ne pare sono cinque quaderni pieni di roba simile ti interessa che il mondo li conosca io credo di no li avrai solo se libererai mio marito qui siamo all'epilogo tragico avete visto un passaggio dal film di lizzani processo di verona perché perché al gran consiglio ciano vota contro suo suocero per la sfiducia gran consiglio famoso non fu determinante il voto diciamo però però nell'immagine più che determinante bomba mussolini viene arrestato e lei cerca disperatamente di riappacificare padre e marito con la madre rachele che invece non perdona il tradimento posso dire che è una triste parodia di shakespeare sì ma è proprio parodia perché i personaggi sono ma infatti se mussolini non fosse così tabù è la vicenda di edda dovrebbe essere oggetto di un racconto teatrale c'è stato quello di enzo siciliano su ciano ma io credo che bisognerebbe concentrarsi di più su edda perché la storia lei al centro di questa vicenda è la vera vittima non so come dirti e lei usa questi diari come merce di scambio con i tedeschi ma è tutto inutile perché sappiamo che galeazzo viene fucilato all'undici gennaio del 1944 a verona dopo una serie di come dire tranelli di tranelli e di ingenui abboccamenti certo perché la verità qual è che se tu per vent'anni sei al centro della scena perdi ogni tipo di equilibrio per cui anche lei dobbiamo immaginarci come una che diciamo tutte le cose che le erano state consentite anche i colpi di testa le libertà che si prendeva questo carattere che uno il carattere lo può tenere a bada lei invece essendo la figlia del duce si permetteva questo e altro ecco a quel punto lì lei non si rende più conto che la che la musica è cambiata quindi cade in una trappola ordita dai freddi esecutori del nazismo invece sono sveglissimi puntualissimi tra l'altro c'è questo episodio per cui lui riceve l'assicurazione di essere trasferito in spagna sale su un aeroplano e va a monaco di baviera sì è una vicenda molto simile alla fine di mafalda nel senso che anche mafalda e il marito non si rendono assolutamente con il marito un po di più perché apparteneva a quel mondo la germanico ma anche mafalda alla fine la prendono con una facilità che che ancora oggi stupisce senti donaldo lei si rifugia in svizzera in svizzera proprio nel gennaio del 44 in modo rocambolesco appunto scappando su un carro attraversando la il confine e attenzione lei si rifugia in svizzera ma per gli svizzeri è una è senza molto ingombrante perché stiamo parlando della figlia di mussolini quindi gli svizzeri la trattano molto con le molle la mettono in un ospedale prima in un convento sul lago dei quattro cantoni e poi in una sorta di clinica nel vallese e ci sono i medici che la che la visitano e la descrivono come una grande neuropatica perché chiaramente già il carattere era quello che era poi lì gli sbalzi d'umore si passava dalla serenità alla tragedia e in un anno cominciano gli abboccamenti con gli emissari di allen dals cioè quello che sarebbe stato il fondatore della della cia e che in quel momento si occupava dell'oss cioè dell'office of strategic services l'embrione appunto di quella che sarebbe diventata la cia per cui lei alla fine del 44 consegna i diari a dals e tornerà in italia solo nell'agosto del 1945 anche lì c'è una storia quindi alcuni mesi dopo la fine tragica del padre del padre lei viene mandato al confino a lipari e si innamora di un partigiano comunista ricambiata l'ex alpino leoni da buongiorno il cui padre ha aiutato tra l'altro carlo rosselli a fuggire dall'isola si ria pacifica anche con la madre a ischia nel 46 poi entra in possesso rientra in possesso dell'attico ai parioli e vive aggiatamente con il patrimonio che l'era stato lasciato da ganascia dal suocero dai ciano dai ciano si dedica ad attività editoriali muore a roma l'abbiamo detto oggi all'otto aprile c'è chi dice che sia morte in realtà all'alba del nove c'è una diatriba però diciamo questa è la data e viene sepolta a livorno accanto alla tomba di di galeazzo ecco era un appassionata di auto sportive resta memorabile la corsa sulla strada del passo del muraglione e lei arriva in cima per prima e riceverà i complimenti di un grande che sarà però secondo in quella circostanza cioè tazio nuvolari mazza o no uh but as a human being right she ain't no human being as representing a state she doesn't represent me i don't want to pay no more tax to keep that that institution alive but i totally respect her as as a real person that she's endured that and maintained yes a sense of dignity and i'm always attracted to pageantry se oggi abbiamo incominciato con johnny rotten il cantante dei grandi sex pistols che parla di elizabeth the second non è perché dobbiamo raccontare la storia del punk o dei sex pistols è perché vogliamo parlare di vivian westwood se la stilista regina della moda britannica nata l'otto aprile del 1941 cioè in quelle date in cui sull'inghilterra arrivavano gli aerei dei degli amici di edda degli amici di edda quindi una staffetta praticamente in un paesino sconosciuto del derbyshire quindi da lì diciamo di strada ne ha fatta perché i pantaloni il lurex lucido di johnny rotten la maglietta con la scritta destroy sanguinante la maglia a maniche infinite con ganci metallici un po dappertutto sono proprio creazioni della nostra westwood è una moda che tu hai seguito molto molto io uso ancora quella rete in garza bianca del chitarrista e poi l'union jack manipolata a tagli e del batterista se tutti i sex pistols erano abbigliati da lei perché perché quel geniaccio cattivo e divertente di malcolm mclaren cioè l'uomo che ha inventato il punk in inghilterra che non c'entra con la no all'auto con l'automobile era suo marito e quindi era anche il manager dei sex pistols oggi mi piace citare malcolm mclaren suo marito perché anche l'anniversario della sua morte cioè lui si è spento nel giorno del compleanno di lei l'ottomobile del 2010 allora il punk il punk parlaci del punk di cui tu sei un grande assolutamente ma anche perché qui in ufficio abbiamo uno dei più grandi esegetti del punk chi è jacopo guilardotti vero che ha pubblicato anche un libro sui clash il punk inglese sono i sex pistols i ramones i clash ma il punk era nato negli stati uniti ad alcuni poeti e animali da strada di new york si deve questa creazione e poi più tardi arriva a londra siamo tra il 1900 ci voleva un bel coraggio a essere punk perché o no no dico insomma io ricordo che ho visto un concerto in piazza davanti al palazzo reale piazza del duomo ma i punk sono quelli con le creste sì e dove si pogava ai concerti c'erano quelli che ti prendevano a pugni quando è che è finito il punk beh finito negli anni ottanta però in quel concerto si esibiva il grande joe strammery il leader dei clash e c'era un pogatore che a un certo punto ha steso tutti cioè uno che tirava pugni perché c'era questa mania non è bellissimo ma però si può fare a meno a te piace essere picchiato no senti torniamo a lei allora la ribellione giovanile dei punk era perfetta per le creatività e le invenzioni di vivian westwood e lei si tuffa in questa avventura con grande grande ispirazione e con grande entusiasmo the punk movement i mean i was just a fashion that became a marketing opportunity for people and it's great nowadays to see young people dressed as a punk but you know because it's entered into the iconography of i am a rebel and that's what i look like if i want to be that kind of rebel but for somebody my age to think that it's got any credibility in any way no it hasn't it was just an excuse for people to run around lei in realtà non si chiamava westwood perché westwood era il cognome del primo marito lei si chiamava vivian isabel swire e si sposò nel 1967 col mclaren nel 1971 a londra apre con lui let it rock quindi diciamo che lei è la seconda ondata che dall'inghilterra conquistato il mondo dopo quella più pacifica diciamo di carnaby street lei prima era specializzata nella moda dei teddy boy cioè quella sottocultura anche lì si chiamava giovanile britannica che era nata negli anni 50 e che si vestiva un po come i dandy del periodo eduardiano un po' arancia meccanica un pochino arancia meccanica al numero 430 di kings road a celsi la boutique di westwood e mclaren cambia nome ad ogni nuova collezione cioè loro inseguono anzi anticipano la moda è interessante come sia la stessa strada della minigonna di mary quant pazzesco e poi cosa accade nel 73 leonardo nel 73 diventa too fast to live too young to die è stupendo e si vende la moda per i bike un trionfo di nero di vinile e capi in pelle decorati come con le borchie e le catene poi nel 74 diventa sexy il nome della boutique e due anni dopo con poche varianti di impostazione diventa seditionary cioè i rivoltosi sedition significa appunto sedizione sedizione lei disegna modelli su basati sul fetiche e sul sadomasochismo questa volta se volete sapere qualcosa non chiamate me ma chiamate amerigo amerigo ostaponna sa tutto che di borchie di catene è un grande esperto allora gonne abiti in lattice pantaloni cinghiati magliette provocatorie c'è una cosa che proprio mi interessa veramente poco anche a me va bene e la sua è un'antimoda di ogli strappati di buchi sparsi che però poi ha avuto tante fortune in altre epoche poi è arrivata la Thatcher poi è arrivata la Thatcher che per reazione con lancia fiamme per reazione però parliamo di quei famosi maglioni a maglia larghe che si srotolano oppure quelli chiusi sulle maniche per dare il tono di una camicia di forza allora il suo negozio diventa un punto di ritrovo per un pugno di ragazzi in caccia diversamente arrabbiati tutti di Londra tra i quali appunto i Sex Pistols e i punk sconvolgono la quiete borghese della vecchia Inghilterra e gli abiti della Westwood accontentano quel gruppo di ragazzi in cerca di un simbolo e soprattutto di una identificazione beh è stato un grande momento di libertà cioè l'Inghilterra in quel momento ha dato ha insegnato al resto d'Europa che tutto poteva cambiare nella continuità perché l'Inghilterra non si muoveva non si muoveva però ognuno faceva quello che muoveva ci si è chiesti se il punk senza di lei sarebbe potuto esistere in Inghilterra è una domanda che non mi lascia tranquillo no beh diciamo è nato in strada non è stata una strategia di marketing però possiamo affermare senza dubbio che senza di lei non avrebbe ricevuto tutta quella attenzione poi diciamo anche che quando parliamo della musica punk i Sex Pistols inclusi i Clash sono dei musicisti straordinari parliamo appunto di grandissima musica non dimentichiamolo come tutte le belle storie si implode sono destinate a finire il punk spiazze quando nasco io finisce il punk anche perché avevano ingollato degli acidi di queste dimensioni e poi arriva l'eroina sappiamo alla fine che fa Sid Vicious che muore e fra il 78 e il 79 lei si dirige su altri lidi capisce che la musica quella lì è finita la boutique di Kings Road cambia definitivamente nome si chiamerà World's End cioè è un'insegna bellissima quella di un orologio con 13 ore che procede all'inverso molto Alice nel Paese delle Meraviglie sì poi è cambiato tutto sì siamo imborghesiti sì e soprattutto lei allora comincia a pescare nella storia nella storia e quindi tutto ciò che è stato la moda tra il 6 e il 700 perché poi negli inglesi c'è sempre questo ripescaggio da Enrico VIII, Elisabetta, Maria Stuarda, Ogart che ne so e quindi ci sono tutte queste suggestioni a cui ovviamente perché siamo al centro di un impero le suggestioni etniche, il mondo africano il mondo coloniale quindi viene fuori un gran mischione e le nuove collezioni si chiamano Pirate, Savages, Buffalo Leonardo indossa spesso la collezione Buffalo gli stivali gli stivali Buffalo e diciamo gli immaginari di riferimento sono cambiati cioè di tutto e di più Rococo, Tartan anche i tessuti a quadri degli scozzesi e il famoso Country Chic bravissimo nel 1985 una notizia utile per il nostro pubblico lei si ispira al capolavoro Petrushka Igor Stravinsky Petrushka per disegnare il mini crini che cos'è il mini crini? è una mini gonna fatta in crinolina che anche questa viene indossata non da Amerigo ma dal Babiussa comunque questa donna, occorre riconoscerlo aveva una verve una campionessa una campionessa non ha mai perso di vista il linguaggio della strada è sempre rimasta attaccatissima ai giovani e non ha mai perso l'occasione per essere attuale per essere dirompente per essere all'avanguardia poi è stata una stilista impegnata perché si è lanciata in mille temi dalla difesa dell'ambiente alla sensibilizzazione contro il terrorismo per me la moda è una scusa per parlare di politica essere una stilista mi dà una voce il che è molto importante la moda è qualcosa che migliora la vita e come tutto ciò che dà piacere è importante farla bene ricordiamo che vent'anni fa nel 2004 il V&A, il Vittoria and Albert Museum di Londra l'ha celebrata con una grande mostra che io ho visto tra l'altro e la regina Elizabeth le conferì il titolo di dama comandante dell'impero britannico dimenticando quello che avevano fatto i Sex Pistols con i suoi abiti ma sì è fantastico si è spenta il 29 dicembre del 2022 quindi solo un anno e mezzo fa a Londra e al funerale hanno detto ha iniziato da punk e ha finito da dama senza mai scendere al minimo compromesso chapeau chapeau per Vivian Westwood e io prima di dare la parola al mio meraviglioso partner partner sparing partner mi affido al Timbota tieni botta 8 aprile è l'one day chi ha il stomach pain ha un cred brisa a chi la vod e cioè chi ha lo stomaco pieno lui non crede non crede a chi ce l'ha vuoto io questo è a gran brisa a gran brisa pin e pieno 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 in modernese non è il pin quello del cellulare no o della banca o della banca possiamo far scorrere in sovraimpressione il codice pin di Leonardo hai fatto un po' di acquisti va bene Leo cosa facciamo allora Giuseppe Zigaina che il 2 aprile scorso avrebbe compiuto cent'anni nato a Cervignano del Friuli appunto cento anni fa è scomparso a Palmanova nel 2015 perché parliamo di Giuseppe Zigaina perché il nostro attento spettatore Emanuele Alessandri ci ha scritto e ci ha mandato un ricco programma di celebrazioni di qui ai prossimi mesi ma veramente un programma ricchissimo chi era Giuseppe Zigaina Giuseppe Zigaina è stato artista pittore incisore presente alla Biennale di Venezia profondamente legato a Pierpaolo Pasolini con cui stabilì legami umani e artistici di primo ordine quindi una figura straordinaria del nostro novecento beh grazie ai nostri telespettatori che sono il nervo di classica cadina noi siamo invece il nervo scoperto grazie Emanuele Alessandri e viva davvero ci vediamo domani Almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheriti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo di QTSS e